Allora siamo qui a Sapienta Cup 2014 per la quindizione di questo torneo e siamo qui con Valeria e Vilaria e spontaneamente sono offerti di farsi intervistare per dirci la loro opinione su come è andato il torneo. Valeria dici la tua. Su come è andato, noi vorremmo fare dei pronostici per le prossime partite. Hai visto tutte le partite. Vilaria quale sarebbe la tua finale ideale? Dimmi il nome di una squadra. È la prima volta che hai venito al torneo. Eh, più bella, sì, diciamo che il mio ruolo qui non è ancora ben definito, io sono sola da subparto. Però le partite le hai viste? No. Perché il tuo ragazzo le hai viste? No. Imbarazzo. Valeria, vabbè, il tuo pronostico secondo te è questo torneo, chi non lo vince? Pulito non lo vince. Salutiamo Pulito. Salutiamo Pulito. E invece chi lo vince? Non so. Il tuo non ciò. Direi che io sarebbe troppo... Secondo noi vince Beauty Pharma. Avrei dei cosi in mano qui. Non vorrei fare... Ma non potrà vincere invece... Non potrà vincere Old Wild West. Benissimo, siccome il video sta durando troppo, io direi di tagliare. E di chiudere qui con un saluto... Sempre Fidelis. Saluto. Al mio Celentino. Due. Ciao, Sapienza K. È tutto. Un saluto a Cosimo Mellone che sta facendo le riprese. Buonasera a tutti. Ciao. 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 Ciao.